ebbene amici fratelli della congrega 14 26 del 17 04 2023 allora mi è capitato di vedere questo film di cui vi leggerò la recensione da me scritta link in description ci saranno delle variazioni qui ci sono delle variazioni tematiche di questo film medievale rispetto ad altri prodotti simili nanni moretti è stato ospite da fabio fazio giovedì andò a vedere diciamo il sol dell'avvenire oggi non c'è un bel sol in quel di bulagna bulagna gergale dialettale più che altro vernacolare bologna e sono un po' iracondo perché fabio fazio voi che siete faziosi quindi amanti di fazio stima molto moretti ma io diverrò in vere condo diciamo e poco giocondo poco solare dinanzi a questo film che mi farà cagare ma non voglio essere prevenuto e vi ho detto questo preventivamente con tanto di prefazione forse da deficiente e ora vi leggerò la recensione spero intelligente ebbene oggi recensiamo usiamo utilizziamo il plurale maiestatico qui c'è sua maestà ce ne sono diversi di re e qual è il parterre de roi cast di attori sconosciuti tutta una mia ricerca non bisogna sbagliare nella dicitura allora partiamo spero di non avervi annoiato recensiamo l'apprezzabile sebbene non eccezionale altresì meritevole di visione apprezzabile non apprezzato perché la critica si espressa in maniera controversa diciamo da noi seguentemente disaminato the last kingdom sette re devono morire the last kingdom seven kings must die titolo originale film targato netflix distribuito come sovente avviene c'è praticamente sempre all'inizio forse no però ora su tale piattaforma di streaming oramai la più proficua e famosa al mondo so possono dire in contemporanea mondiale a partire da lo scorso giorno 14 aprile dello skin dom è un opus della corposa durata di un'ora e 51 minuti netti minuto più minuto meno lei troppo minuto mangi di più firmato da edward bagel set mangia anche delle baguette qui non siamo in francia ma in inghilterra anzi diverrà l'inghilterra il quale dopo averne diretto la serie omonima eccezionata per il sottotitolo la serie si chiamava semplicemente the last kingdom a sua volta tratto da una stimata serie di romanzi raccolti nella sillogi intitolata che già una raccolta non la storia dei re sassoni gli do tanti sassi grossi sassoni no sassoni concepita e partorita la fervida e fantasiosamente onirica creativa del valente boron al colwell per l'occasione ne generò questo registo un film figlio potremmo dire d'una sua costola ora ora film che ha anche echi dell'holy bible che è la bibbia no quindi dalla costola di adamo nacque eva no non perdiamoci in chiacchiere allora discretamente accolto la critica statunitense dall'intelligenza l'ultroceano riscontrando una percentuale su metacritic di opinioni favorevoli del 45 per cento quindi per lo più negative le recensioni della skin dom sette re devono morire estremamente scienziato da marcia hilli or ispiratasi giusto appunto ai personaggi mi ha dato la pena di suicidato assai stimato con world c'è niente po po di meno che colei che ha dato i singoli script di tutti gli episodi della serie tv sopra menzionatavi qui ripetutavi e naturalmente sempre parimenti però stavolta in versione prettamente filmiche in termini di lungometraggio una storia ambientata nel medioevo di matrice assai vagamente fantasy non ci sono i draghi mentre nella copertina del mio libro l'ultimo dei romantici libertini link in descrizione c'è il drago è chiaro voi che fate tanto i draghi e addirittura biblico cristologica ora che ne riprende in particolar modo il protagonista principale ovvero utred poi possiamo citare uter pendregone dall'utero di grain nacque re artù ma andiamo avanti allora la trama la sinossi riportataci e qui da me lette integralmente testualmente sinteticamente molto espressa però in maniera concisa no lei sarà circonciso perché poi all'epoca no su mdb è questa sulla scia della morte re edoardo utred di bebamburg e i suoi compagni del nord dell'umbria c'è anche il nord umbria si avventurano in un regno fratturato nella speranza di unire finalmente l'inghilterra uomini che attraversate i mari l'oceano uomini di terra uomini terragni uomini terroni cambiamo l'indonazione ci vuole adesso il meridionale rudo sanguinario visivamente eccellente in molti punti virtù dal confondo con re artù della nita fotografia di luke bryant che ottimamente nel suo davantino giochi tu giochi a cosa no gioco di luci mi fa confondere il plurale con i singolari lei singolo luci fascinoso si destregge fra crepuscolare scure scene notturne riprese parola rapica grande angolare recitata impeccabilmente a tutto il variegato interminabile cast notevole su cui spiccano le presenze corpose ma c'è fotogene di mark rowley r gilb lori davidson chi più ne ha più ne mette pecca strang ingrid garcia johnson ma soprattutto alexander draymond non alessandro magna chiaro malgrado la sua lentezza a tratti su porifera ed eccessiva si lascia vedere volentieri in alcuni punti forse però troppo pochi profuma di epicità folgorante autentica specialmente nell'ultima mezz'ora sfoderandoci lo spadone no una scena di di sesso è no trono di spade gli spadacini e quei rapporti e si vedevano benino nel trono di spade di sesso del fastoso sebbene il retorico brevart forse sopravvalutato come sopravvalutato un altro film che adesso citerò nelle righe a venire e avvince grandemente malgrado la magniloquenza però estetica quella formale diciamo le musiche del trio formato da denis soul john luke helbert palestate insomma sono pompose ma poco emozionanti enfatizzanti in modo non necessario perfino poco funzionali spesso mal sincronizzate alle images immagini ma immagino all the people citando john lennon la gente che festeggia che balla tutto felice e contente poi uter pendragon non vede questa bella igraine che balla vi ricordate ne scalibur debba averla debba averla e si rovina diciamo tutta l'armonia che lì fa l'amore mentre il re cornuto mentre quello sta fornicando lui sta morendo crepando allora inoltre nonostante l'impegno lodevole come detto dei bravi attori coinvoltini coinvoltini o coinvoltine nella pellicola qui vi voglio la pellicola non ci presenta nulla di nuovo ripropone stancamente la formula oramai troppo abusata e noi inflazionata e non più di moda del cosiddetto film storico drammatico a tinte potremmo dire pesantemente medievalistiche camminando o cavalcando cinematograficamente parlando a passo lento e poco emotivamente coinvolgente da raffrontare sebbene assai divergente nell'intrezzo e nei suoi sviluppi diciamo nella tematica nell'assunto adesso ho fatto un riassunto diciamo in questa recensione non vi ho svelato molto della trama col sopravvalutato ecco qui volevo arrivare il norme di robert eggers che altro che film epico che dice che un film epico ma che epicità riguardasse con il barbaro dai no anche qui si fa chiaro riferimento specie nel finale al mito del valhalla ma che cos'è questo valhalla una sorta di paradiso diciamo di questi uomini da romanzi bretoni no della britagna uomini germanici uomini tedeschi uomini francesi uomini anche italiani uomini siciliani spadacini usarracino 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 bello guaglione comunque un bello guaglione questo alexander visto che occhi azzurri limpidi come il cielo non di bologna oggi l'agenda anche i cattivi si riuniscono poi avete visto la leggenda di bea wolf con angelina jolie poi c'è anche anthony hopkins tutto cartonizzato live action comunque action c'è accazione questa è la recensione non è un filmone già visto però l'ultima mezz'ora prende a chiappa diciamo e il finale è anche commovente alla prossima forza voi mi attaccate ma secondo quale movente che cosa vi spinge ad attaccare il falò che vive solleva il ponte elevatoio vive nella resistenza nella resilienza quindi uomini e viva la nostra esistenza ciao 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 Grazie a tutti.